Il passaggio di Elena Pavani in Fratelli d'Italia e l'ingresso dell'ex sindaca nella maggioranza di Nicola Finco ha suscitato parecchio clamore anche fra le opposizioni cittadine che si dividono esattamente a metà. C'è chi ha già pronto il popcorn per assistere ai fuochi d'artificio che la novità sembra dover originare in tempi anche piuttosto rapidi e c'è chi spara ad alzo zero. Per il Partito Democratico cittadino, ad esempio, Elena Pavani entra in una maggioranza che finora non ha fatto altro che scaricarle addosso tutte le responsabilità che, citiamo da una nota giunta in redazione, Finco non riesce a gestire. Ma c'è anche un'altra questione che va oltre la lettura politica, è la situazione legata all'Unione Montana, dove Pavani rappresenta le minoranze e i consigliari bassanesi. Per questo il PD chiede le sue dimissioni immediate dall'organismo. Della stessa opinione anche Gianni Zen. Credo sia una cosa ovvia, non occorrebbe neanche chiederlo. Cioè fa parte della normalità. Se lei è stata nominata in quota minoranze, è chiaro che uscendo dalle minoranze dovrà lasciare il posto qualcun altro. La faccenda casca a fagiolo perché domani in Unione Montana verrà discussa una mozione a firma dell'ex sindaca che critica fortemente la posizione dell'amministrazione di Nicola Finco sulla vicenda dei vigili di Bassano all'interno dell'Unione. La stessa Pavani ha comunicato che toglierà la firma dal provvedimento, che però verrà discusso e votato dall'Assemblea. Unione Montana parte, sono in molti a puntare il dito contro il ribaltone politico delle scorse ore. Sono gli elettori che decidono chi è maggioranza e chi è opposizione, per cui i salti non sono mai cosa apprezzabile, né a livello nazionale né a livello locale. Ed era giusto ribadire questo. Poi si rispetta la sua scelta, ma una cosa è entrare in un gruppo un'altra cosa e in qualche modo sconfessare quella che è stata la scelta degli elettori di stabilire chi è maggioranza e chi è minoranza.